Mi chiamo Corinne e vengo da Roma. Sono l'amante da 25 anni di un uomo sposato e con lui ho due figli. E questa è la mia storia. All'età di 17 anni incontrò un ragazzo. 30 anni fa si decideva che quando eri fidanzato con una persona poi te lo dovevi sposare. E così, pure se non ero innamorata, me lo sposai. Ho avuto due figli con questa persona. Ero una brava mamma, una brava moglie, ma mi mancava sempre qualcosa, l'amore. Conosco quest'uomo, molto più grande di me. Lui mi fa capire che mi ama, che vuole stare insieme a me. Scopro di essere incinta per ben due volte. Faccio credere a mio marito che i figli sono suoi. Lui ha un'altra famiglia. Mi dice che mi vuole bene, va da me, si interessa di me, ma di questi figli non se ne occupa per niente, nonostante lui sia una persona molto benestante. Alla sua famiglia non manca niente. Case di lusso, macchine di lusso. E invece io lavoro dalla mattina alla sera per crescere i suoi figli. Decido di lasciare mio marito. Vado avanti. Rimango suo amante per 25 anni. Tante cose vado oltre, non le capisco e non le voglio capire. Lui mi fa sentire importante, ma mi manca tutto. Mi manca l'amore, mi manca la presenza, mi manca la certezza. Lui vive la sua vita felice con la sua famiglia come se io non esistessi. Eppure sto là, da 25 anni. Faccio grandi sacrifici. E dopo 25 anni lui viene da me, dice che c'ha una certa età e che vuole vivere la sua vecchiaia con la sua famiglia e con i suoi figli. E che di me non ne vuole sapere più niente. Vado da una psicologa perché cado in un profondo stato di depressione. Che pensa a tutto quello che ho fatto, a tutto quello che ho sbagliato. Capisco tanti pezzetti della mia vita che non andavano bene, ma che non volevo vedere. Allora faccio questo video per dire a tutte le donne che come me si trovano ad aspettare per anni, ad accontentarsi per anni, ad essere per anni, la seconda, al buio, in silenzio. Quella che non parla ma che c'è. Quella che non festeggia. Quella che è da sola. Quella che spera. A volte penso che vorrei tanto che i suoi figli lo abbandonassero come le ho abbandonate i miei figli. Ma poi mi sento cattiva. Ed è questo che mi ha portato a voi, ad essere una persona diversa da quello che sono. Non mi fate abbandonare dalle chiacchiere di un uomo sposato che vi promette che vi ama, che con la moglie non sta bene e che prima o poi vuole stare con voi. Vi ruberà solamente anni della vostra vita. Vi ruberà l'opportunità di avere vicino una persona che vi fa felice. Io l'ho pagato sulla mia pelle. E se anche questa storia potesse servire solo a una donna per aprire gli occhi, io ne sarei veramente felice. Buona vita.